Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragonaria, Paganessimo. Oggi Francesco non c'è e lo troverete però in radio il prossimo giovedì da solo praticamente. Allora, già Francesco vi ha parlato che c'è stato due riti del sostizio d'estate tenuti uno in un'altra località del Veneto dove praticamente abbiamo celebrato la conoscenza, abbiamo celebrato il fuoco e abbiamo rinnovato quello che è il patto con gli dèi del mondo in cui viviamo. Bene, una volta fatto, fatto questo, nella trasmissione di oggi io ne approfitto per la mancanza di Francesco per trattare sia delle notizie stampa però delle notizie stampa in relazione anche a delle pagine web relative al Paganessimo che sono state caricate. Sono pagine web che già da parecchio tempo sono in internet anche perché i lavori che sto facendo in questo momento ho terminato da non molto tempo un commento alle istruzioni agli apostoli scritte nel Vangelo di Matteo date dal patto di Nazareth che è una cosa a mettersi le mani sui capelli. Sono 14 pagine web di analisi delle istruzioni che mettono in luce le aberrazioni e la devastazione della società ordinata da Gesù al fine di sottomettere le persone di stuprare la psiche delle persone e queste le ho caricate in internet sul sito www.stragonariapagana.it sempre su www.stragonariapagana.it ho caricato le prime tre pagine relative a un lavoro estremamente vasto che sto facendo in questo momento e che ha lo scopo di dimostrare come la Chiesa Cattolica costruisca lo stupro dei bambini, i bambini stuprati, lo stupro delle emozioni, lo stupro della personalità delle persone e veicola all'interno di questa operazione quelle che sono le pulsioni delle persone trasformandole in individui distruttivi per la società nella quale viviamo. Le prime tre pagine sono state caricate, naturalmente il lavoro è molto più vasto e comunque andrà avanti nel tempo per radio lo farò quando ne avrò occasione. Le pagine che vi farò oggi sono tre pagine abbastanza complesse una pagina mette in luce i comportamenti cristiani e i comportamenti pagani cioè come si comporta un cristiano e come si comporta un pagano davanti a situazioni simili l'altra è l'origine del bullismo sociale e parleremo in relazione anche alla notizia a quella di Rovigo dove ci sono delle cose anche da mettersi le mani e i capelli e il terzo pezzo che vorrei fare, se ci riesco, comunque oggi pomeriggio andrò avanti con questi e con altri pezzi dalle 19 alle 20 è come concepisce il mondo in cui vive chi pratica stregoneria e naturalmente ho anche una delle ultime scoperte che confermano il testo ripeto, questi testi sono da un certo tempo in internet e sono già abbastanza letti il primo pezzo che vi faccio è date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio e la scelta di Paride date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio ma gli mandarono alcuni farisei con degli erodiani per sorprenderlo nei lacci di una questione orgiunti gli dissero maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e non hai riguardo per nessuno poiché tu non guardi in faccia gli uomini ma insegni la via di Dio secondo verità è lecito pagare il tributo a Cesare o no, dobbiamo pagarlo o non pagarlo egli conosciuto la loro malizia disse perché mi mettete alla prova, portatemi un denaro che lo veda essi glielo presentarono e gli domandò di chi è questa effigie e l'iscrizione gli dissero di Cesare allora Gesù rispose date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio e rimasero meravigliati di lui, la frase è in Matteo 22.16.22 e in Marco 11.13.17 la domanda è adesso cominciamo a commentare questo passo dei Vangeli che tanto viene usato anche dai cristiani chi dà a Cesare o a Dio cosa riceve in cambio? o cosa ha ricevuto la persona da Cesare o da Dio per dare loro qualche cosa che qualcuno ritiene che gli aspetti? cosa è tenuto a dare Cesare o Dio all'individuo per essere nelle condizioni di pretendere qualche cosa? di tutto questo Gesù non parla non parla mai nei Vangeli del dovere del Dio suo padre o del proprio dovere nei confronti delle persone le persone per il pazzo di Nazareth e per Gesù non sono un soggetto a cui egli deve qualcosa per Gesù le persone sono l'oggetto del suo disprezzo quando egli è umile nei confronti delle persone quando egli viene descritto come colui che si sacrifica non si tratta di una disposizione d'animo nei confronti delle persone non si tratta di soddisfare dei bisogni che le persone manifestano ma della più vigliacca ed infame forma di ricatto nei confronti delle persone a cui la storia ha assistito il ricatto emotivo che impone dipendenza delle persone alla sua umiltà si finge servo per farsi servire e umile per umiliare le persone l'azione di Gesù si riassume con la strategia di Paolo di Tarso dice Paolo di Tarso fai la carità al tuo nemico così accumulerai sopra di lui carboni ardenti la traduzione esatta sarebbe Paolo di Tarso dice Gesù è il nemico dell'umanità e sull'umanità accumula carboni ardenti per portarla alla distruzione l'azione di Gesù è la continuazione dell'attività di depersonalizzazione delle persone per trasformarle in oggetti che si possiedono e che non hanno diritto alcuno il cristianesimo, secondo alcuni introduce in contraposizione all'antico concetto di fatto il concetto di libero arbitrio il libero arbitrio che consisterebbe nel fare ciò che vuole Gesù o essere legati e cacciati laddove c'è dolore e stridor di denti l'affermazione di Gesù non è altro che la continuazione della depersonalizzazione delle persone le quali non manifestano nessun diritto o obbediscono o vengono uccise le persone sono debitrici nei confronti di Cesare e di Dio non hanno diritti né nulla possono rivendicare nei confronti di Cesare o di Dio dove per Cesare si intende il potere civile e per Dio il potere religioso spirituale il libero arbitrio dei cristiani consiste nell'imporre alle persone di dare a Cesare e al loro Dio le persone possono non dare a Cesare o al loro Dio e subire l'ira di Cesare o l'ira del Dio dei cristiani o sottomettersi e accettare i ricatti o subire l'ira e la persecuzione e le persone? ma è sempre stato così? è sempre stata la scelta fatta in questo modo? proviamo a pescare dal mito greco da Apollo d'oro epitome la scelta di Paride leggiamo cosa ci dice Apollo d'oro per una di queste ragioni Eris getta una mela come premio per la più bella davanti alle dee Hera, Athena e Afrodite Zeus ordina a Dermes di condurre le dee da Alessandro sull'Ida perché vengano da lui giudicate ad Alessandro le dee promettono tre doni Hera disse che se fosse stata scelta gli avrebbe dato il dominio del mondo Athena la vittoria nelle guerre Afrodite le nozze con Elena lui sceglie Afrodite poi si imbarca sulle navi che gli ha costruito che gli ha costruito Fereclo e salpa alla volta di Sparta al raduno degli dei questo è ciò che ci racconta Apollo d'oro al raduno degli dei Eris lancia una mela con soprascritto alla più bella tre dei si contendono la mela Hera Atene Athena e Afrodite Paride viene incaricato di scegliere quale delle idee è la più bella e di donarle la mela d'oro Hera è l'essere natura di cui Paride parte Athena è l'arte dell'agguato è lo strumento che Zeus ha donato agli esseri della natura finché si trasforma in dei Afrodite è la fusione emotiva che porta al divenire della vita come potrebbe Paride scegliere la più bella di queste tre idee quando ognuna di esse è a fondamento della sua stessa esistenza dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio che cosa riceve l'uomo in cambio? le tre idee non offrono soltanto il loro aspetto sul quale Paride non può sindacare ma portano dei doni a Paride la scelta di Paride non è fra la più bella fra le idee Paride deve scegliere quale dono accettare dalle idee è il dono che sollecita la scelta di Paride è nel dono il segreto del mito Hera offre il potere come dominio e comando sugli uomini Atena offre la vittoria in guerra Afrodite offre di far innamorare Paride di Paride la donna più bella del mondo cosa comportava accettare un dono? il dono di Hera lo trasformava in padrone di uomini il dono di Atena lo trasformava in servo di uomini a cosa serve poter vincere sempre le guerre se non per passare l'intera vita a fare guerra? il dono di Afrodite avrebbe permesso a Paride di manifestare le proprie tensioni e le proprie pulsioni con la più grande passione che avrebbe potuto suscitare nel mondo in cui viveva dunque Paride sceglie se stesso sceglie Afrodite Paride sceglie di vivere una vita piena di emozioni e di passioni piuttosto che dominare gli altri uomini o essere servo della società a cui apparteneva questa scelta sarà piena di conseguenze ma Paride ha esercitato il suo libero arbitrio per quella scelta vive per quella scelta combatte per quella scelta muore come succede ad ogni essere della natura e l'essere umano nel nostro caso che anche quando afferma di non scegliere in realtà sta scegliendo nel dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio non c'è scelta per l'individuo l'individuo non ha alternative se non quella di rinunciare a vivere ma rinunciare a vivere non è un'alternativa della o nella vita è fuori della vita il soggetto non trae nessun beneficio nel dare a quei due in quanto quei due stando all'ideologia di Gesù non sono tenuti a dare nulla all'uomo ma pretendono con la violenza che l'uomo si mette in ginocchio l'uomo è un soggetto odiato dal Dio Gesù o dal Dio di Gesù o dal Dio padre di Gesù l'uomo è odiato perché non adora abbastanza Gesù Gesù non si ritiene in diritto di portare qualche cosa all'uomo ma come dicono i cristiani si è sacrificato per lui ma chi gliel'ha chiesto chi ha manifestato la necessità che Gesù si sacrificasse non è più probabile che Gesù ha fallito nel suo tentativo di stuprare gli uomini e allora i suoi seguaci hanno trasformato il suo fallimento in una pubblicità la pubblicità di un nuovo dentifricio o meglio la pubblicità di un modello al quale costringe gli esseri umani in ginocchio Paride ha vissuto Paride si è fuso con gli oggetti del mondo Paride si è trasformato in un Dio già perché mentre i doni di Hera e Athena erano legati alla ragione alla quotidianità il dono di Afrodite proiettava nell'infinito dei mutamenti Cesare rappresenta per i cristiani il modello di monarchia assoluta Dio in cielo in terra sarà il modello che i cristiani imporranno agli esseri umani fino al 1789 nel 1789 tagliando la testa al re che rappresenta Dio in terra Paride può scegliere di vivere la propria vita trasformandosi in un Dio nell'infinito dei mutamenti mentre il mito ci racconta che gli esseri figli di Hera spesso devono combattere anche contro gli dèi anche contro Hera stessa per riaffermare il proprio diritto a decidere della propria vita i Vangeli ufficiali della Chiesa Cattolica raccontano agli esseri umani che non c'è speranza raccontano che il mondo è fatto da Dio e da Mammona dal loro Dio e dal benessere terreno che loro chiamano ricchezza e che non c'è scelta se non fra l'uno e l'altro e che comunque quella scelta sarà giudicata dal loro Dio che condannerà chi non ha scelto lui mentre il mito ci racconta come solo l'uomo coraggioso capace di fare le proprie scelte può continuare a divenire nell'infinito dei mutamenti i cristiani ci raccontano che solo mettendosi in ginocchio davanti al loro Dio c'è qualche possibilità che il loro Dio si svegli una mattina e abbia voglia di salvarli dal disfacimento che hanno prodotto nella loro esistenza Paride sceglie i doni degli dèi su tre doni che gli dèi gli offrono due appartengono al potere di avere al potere che deriva dal possesso solo uno appartiene al potere di essere cioè alla capacità o possibilità per l'individuo di manifestare le proprie pulsioni e le proprie tensioni per trasformarsi la scelta di Paride è sul potere di essere egli vuole vivere egli vuole amare egli vuole percorrere i sentieri nell'infinito cosa vuole l'essere umano che il Gesù dei cristiani costringe a dare a Cese quel che diceva a Dio suo padre cioè a lui stesso ciò che appartiene al Dio suo padre cioè a lui stesso può quell'uomo chiedere al suo Dio al suo Cesare che stiano ai patti Gesù disprezza gli esseri umani capaci di stare ai patti non li può ricattare non li può colpevolizzare chi sta ai patti può chiedere giustizia chiedere giustizia significa chiedere che sia il Gesù che il Dio che il Dio suo padre che Cesare ottemperino a ciò che può dar loro diritto di chiedere qualche cosa al singolo uomo un patto fra pari il Dio dei cristiani il Gesù dei cristiani Cesare e ogni singolo individuo seduti attorno a un tavolo che discutono su come e che cosa conviene loro dove il Dio dei cristiani Cesare e il Gesù dei cristiani non trattano con tutti gli uomini come massa ma con ogni singolo individuo del passato presente e futuro che cosa a loro quattro conviene solo allora si rispettano gli uomini anziché pensarli bestiami di un greggio che qualcuno si ritiene in diritto di portarli al macello della vita sia esso il Dio dei cristiani Cesare o Gesù o quant'altro nella scelta di Paride gli dèi trattano con ogni singolo uomo ogni uomo nella sua vita consegna la sua mela d'oro agli dèi e consegnandola fa le sue scelte esercita il suo libero arbitrio nell'infinito dei mutamenti il mito ci racconta che ogni uomo è un soggetto che tratta personalmente con gli dèi sceglie e nel scegliere si fa carico delle conseguenze della sua scelta ogni uomo è un Paride che sceglie il proprio futuro se il dio dei cristiani non è in grado di rispettare i patti che ha fatto con ogni singolo essere umano non è in grado nemmeno di rivendicare un qualche diritto sull'uomo non è forse Gesù di Nazareth ad affermare che non sarebbe passata quella generazione senza che lui sarebbe venuto sulle nubi con grande potenza alla destra del padre mentre le stelle cadevano sulla terra e avrebbe giudicato beh ha mentito è un bugiardo è un fellone è un coniate voi qualche termine non è stato ai patti chi credeva nella sua venuta chi è stato da lui convinto che non avrebbe mai gustato la dolce morte moriva fra sofferenze che l'attesa prodotta dalla convinzione alimentava dentro di lui moriva nella disperazione della sua venuta non aveva messo in conto di essere stato truffato reggirato imbrogliato ora rimpiange tutte le cose che avrebbe potuto fare e non ha fatto attendendo quella venuta Gesù è solo un povero pazzo Afrodite ha promesso a Paride che scegliendo di manifestarla avrebbe vissuto una vita piena non gli ha promesso l'eternità gli ha promesso soltanto l'amore solo che l'amore di Afrodite manifestato nella quotidianità porta gli esseri umani all'eternità nel dare a Cesare quel che è di Cesare a Dio quel che è di Dio Gesù nega la personalità dell'uomo e nega con questo la valenza e l'importanza delle scelte del singolo individuo nega l'uomo perché se dà è oggetto posseduto da Cesare e da Dio ma se non dà viene bruciato e annientato da Cesare o da Dio negare l'uomo la sua volontà e la sua capacità di scelta è proprio del cristiano che considera se stesse una pecora pronta a percorrere una strada che porta al macello della vita e questo è il testo date a Cesare quel che è di Cesare a Dio quel che è di Dio e la scelta di pari ora se avete notato in questo testo che lo potrete rintracciare in internet date a Cesare quel che è di Cesare a Dio quel che è di Dio come parola chiave o come frase chiave la mettete su Google o trovate facilmente comunque su Stragonaria Pagana in questo testo che vi ho letto ad un certo punto io vi ho letto una cosa abbastanza particolare e vi ho detto nella scelta di Paride gli dèi trattano con ogni singolo uomo ogni uomo nella sua vita consegna la sua mela d'oro agli dèi e consegnandola fa le sue scelte esercita il suo libero arbitrio nell'infinito dei mutamenti il mito ci racconta che ogni uomo è un soggetto che tratta personalmente con gli dèi sceglie e nel scegliere si fa carico delle conseguenze della sua scelta ogni uomo è un Paride che sceglie il proprio futuro bene se voi avete seguito questi giorni i fatti di cronaca io per brevità ho lasciato tutti gli articoli che ho raccolti sul fatto e ne ho tirato fuori uno abbastanza breve avete sentito il cosiddetto scandalo che era scoppiato in relazione al Messia Game uno spettacolo di danza fatto alla Biennale di Venezia se ne è dette di tutti i colori per non far vedere quello spettacolo e alla fine lo spettacolo è intervenuto anche quella lurida figura che è Ettore Scola quella doratoria del macellare Sodoma e Gomorra che è Ettore Scola per impedire alle persone di vedersi Messia Game sono intervenuti addirittura i picchetti dei cattolici integralisti davanti alla Fenice e nel successo di tutti interrogazioni politici demenziali che loro pensano che la Repubblica italiana deve sottomettersi a un dio pazzo e cretino abbiamo di tutto in questo paese siamo la fogna che quando apre bocca manda fuori puzza bene lo spettacolo è avvenuto uno spettacolo che sa diventare specchio delle miserie d'oggi ma che scivola anche nella ripetitività comunque è stato un bel spettacolo di danza niente di particolare ma perché si è scatenata la chiesa cattolica con scola contro questo spettacolo non c'era sesso non c'era violenza non c'era sadomas cioè non c'era nulla di quello che noi pensiamo eppure dal punto di vista dottrinale questo spettacolo ha messo paura alla chiesa cattolica ma allora perché se non c'era sesso se non c'era violenza se non c'era perché ha messo paura alla chiesa cattolica bene dal gazzettino del 29-6-2007 leggiamo eppure al suo meglio lo spettacolo facendosi specchio degli umani nostri contemporanei riesce a mettere in scena tanti poveri cristi vittime e carnefici nello stesso tempo di una violenza inaudita e gratuita ed è qui in particolare nella prima sezione che la danza si fa protagonista una danza che è movimento debordante e frastagliante proviamo a rileggersi un attimino questa frase mette in scena tanti poveri cristi vittime e carnefici allo stesso tempo attenzione dal punto di vista della teologia cattolica della teologia cristiana non è possibile che ogni persona sia paragonata a Cristo nella teologia cristiana il pazzo di Nazareth ha sacrificato la vita per gli uomini dunque gli uomini devono soffrire e donare la loro sofferenza a Cristo cioè questa nella teologia cristiana questa è la relazione che esiste fra il pazzo di Nazareth e gli uomini il pazzo di Nazareth dicono i cristiani ha salvato l'umanità dunque l'umanità deve soffrire per regalare la sofferenza al pazzo di Nazareth ma qui invece nello spettacolo cosa abbiamo? abbiamo dei cristi abbiamo tanti poveri cristi vittime e carnefici cioè sono individui in sé sono soggetti in sé che vivono la vita vittime carnefici quello che volete con tutte le sue contraddizioni ma non sono sottomessi al pazzo di Nazareth sono loro che vivono quel tipo di sofferenza quel tipo di affronti che ricevono dalla società civile ma se io dico che ogni persona che sta soffrendo in questo momento è un Dio è un Cristo ogni persona in questo momento è un paride ogni persona è un Zeus ogni persona è un Dio e questa è la cosa più micidiale e più orribile che si possa fare al cristianesimo se noi pensiamo che gli uomini possono essere dei Cristi cioè degli dei non sono più bestiame del grece perché anche se quello che sta soffrendo manifesta con rabbia e con e con forza e il dolore che sta subendo in quel momento quell'individuo non sta più regalando la sua sofferenza al pazzo di Nazareth ma sta rivendicando davanti alla società ciò che lo opprime e ciò che gli fa dolore ed è un Dio in quel momento dal punto di vista del paganesimo questo ha scatenato l'ira dei cattolici cioè solo un demente come Cacciari non riesce a capire queste cosette ma ormai praticamente Cacciari ha venduto il culo perché non è neanche più in grado di cogliere la differenza che esiste fra l'individuo che rivendica se stesso come soggetto di diritto costituzionale e chi lo stupra costringendo il ginocchio per trasformarlo in bestiame senza diritti cioè questa ormai dicotomia Cacciari non è più in grado di vederla proprio perché ormai si è completamente venduto ha perso proprio la capacità di analisi e dunque abbiamo avuto in un fatto di cronaca esattamente quella che è la condizione di dare a Dio quello che è di Dio e dare a Cesare quel che è di Cesare oppure se invece vi fate pagare considerate le cose dal punto di vista pagani scegliere la scelta di Paride la scelta di Paride è quella di affrontare la vita buona o cattiva che sia ma Paride sceglie nel cristianesimo non c'è scelta si è solo bestiame delle greci si è solo coloro che devono omaggiare il padrone sia l'anello del vesco sia il Ratzinger sia il Dio dei cristiani sia un povero pazzo demente che viene poi imposto a ragazzi indifesi che non si possono difendere attraverso un atto di violenza e di terrorismo come vedremo poi fra poco che è stato voluto dal ministero della pubblica istruzione vi ricordo che esiste una sentenza della corte costituzionale che fa delle affermazioni che sono piuttosto importanti bene dopo il discorso di dare a Cesare quel che è di Cesare e dare a Dio quel che è di Dio la scelta di Paride e abbiamo visto l'uomo pagano in contrapposizione all'uomo cristiano qual è le due visioni della vita passiamo invece alla cronaca e per passare alla cronaca passiamo al discorso a un vecchio discorso che avevo lasciato là ma che diventa attuale oggi come oggi il pezzo lo trovate su federazionepagana.it e si intitola l'origine sociale del bullismo nella società civile finché si continuerà a finanziare gli oratori e le parrocchie si continuerà a finanziare il disagio sociale e la distruzione della società civile dove sta l'origine del problema l'origine del problema sociale è che i bambini vengono costretti ad obbedire pregare sottomettersi anziché fornire loro gli strumenti per affrontare la società civile i bambini vengono separati dalla realtà nella quale vivono non ne conoscono i problemi e sono costretti ad identificarsi con l'onnipotenza di un dio padrone col quale si identificano o col quale identificano chi li costringe a sottomettersi a pregare i cattolici sottraggono i bambini alla società civile stuprandone le emozioni e i bambini si difendono rifugiandosi in un mondo virtuale e costringendo i genitori a fordire loro quanto serve per alimentare il loro mondo virtuale non hanno consapevolezza dell'importanza delle azioni che fanno non conoscono le conseguenze civili e giuridiche di un'azione in quanto vengono sottratti alla condizione naturale che dovrebbe concedere loro la conoscenza del codice di diritto penale civile per essere costretti a fagocitare la sindrome da onnipotenza che il cantoricesimo impone loro così come il Gesù di Nazareth si sentono onnipotenti quando spacciano si sentono onnipotenti quando violentano si sentono onnipotenti quando danneggiano e devastano a casa i genitori anziché far vedere loro i problemi che hanno dovuto affrontare nel loro quotidiano mostrano loro quanto sono stati furbi abili e onnipotenti quanto hanno fregato l'altro o quanto come hanno risolto dei problemi con abilità trasferiscono sui loro figli l'orrore che è stato loro imposto attraverso il catechismo cattolico quando erano bambini questa tolleranza nella diffusione dell'orrore cattolico è quella che oggi che giorno dopo giorno anno dopo anno generazione dopo generazione ha prodotto quanto accaduto in questi giorni apro il Corriere della Sera del 18 novembre 2006 e riporto solo i titoli e una breve introduzione dei vari articoli violenze e bullismo a scuola la rete web invasa da video shock pistole giocattolo lanci di sedie su internet le immagini riprese coi cellulari Torino un altro caso di disabile aggredita e fotografata in un liceo Milano insulti urla sedie sbattute contro i muri i professori umiliati che restano impotenti di fronte ad attacchi verbali che si trasformano in violenza ecco i bulli a scuola distruggono filmano e mandano tutto su internet il caso del ragazzo disabile maltrattato dai compagni dell'istituto Steiner di Torino e ripreso dal telefonino è solo uno dei tanti finiti in rete Torino non hanno denunciato il fatto quindi sono colpevoli anche loro il presidente della Steiner di Torino Camillo Di Menna ha proposto due settimane di sospensione per i compagni di classe del ragazzo disabile che hanno visto la scena di violenza ma non hanno raccontato nulla agli insegnanti due la polizia postale il capo degli investigatori ne girano molti ma ci sono ancora poche denunce Milano anche noi dice la polizia postale abbiamo dei limiti sa bloccare i video che rappresentano un crimine evidente come il caso torinese si può fare certo come abbiamo fatto ma quel video noi non l'abbiamo trovato da soli ce l'hanno segnalato senza la segnalazione dal nulla sarebbe stato molto difficile arrivarci non credo non è colpa della rete se esiste il bullismo se lei fosse una formichina e si nascondesse in una classe vedrebbe che è normale fra i ragazzi la natura un po' violenta internet amplifica tutto questo è il guaio ma in sé penso che i ragazzi bulli più o meno violenti esistano da sempre dentro e fuori le nostre scuole i piccoli registri delle nostre miserie e la malattia di essere visti quasi tutti avventi avvenuti a scuola come testimoni ai risultati della ricerca in rete che una catena inattesa disgustosa di botte e angherie si materializzavano sullo schermo serpente venenoso che si mangia altre illusioni di nostri figli li sapevamo immaturi indifferenti privi di iniziativa forse ignoranti o anche maleducati non perversi d'un colpo tutti questi giovani filmacchia dei loro stessi orrori neppure ancora maggiorenni spesso soltanto adolescenti sembrano essersi trasformati in adulti opachi disfatti dalla noia vecchi stanchi che ormai estranei nella vita si chiudono nelle loro buie stanze per guardare filmini oscenamente violenti o pornografici unico mezzo per strapparsi un guizzo di vitalità abuso i tradicenni filmati dei compagni ancona indagati una decina di minori siracusa pedofilia incella un educatore siracusa c'è anche un pentito nell'inchiesta contro la pedofilia e la prostituzione minorile della procura di siracusa che ha portato l'arresto di tre persone e perquisizione a casa di altri nuovi indagati sei il caso figli violentatori il giudice sequestra i beni dei genitori eccetera eccetera perché ci sono tutti questi titoli di giornali e perché la situazione nel paese Italia è ancora più grave di quanto questa sequenza di titoli dimostra ai politici interessa aiutare Ratzinger a stuprare bambini costringendo i ginocchi davanti al crocefisso questo garantisce loro un pacchetto di voti ma nella società questo semina orrore e disagio e così il giudice di Milano deve sequestrare i beni ai genitori dei ragazzi violentatori perché annusando che i loro figli sarebbero stati condannati stavano vendendo i loro beni non solo attraverso il catechismo cattolico hanno imposto ai loro figli il delirio di onnipotenza attraverso il quale hanno violentato una bambina ma hanno dimostrato che bisogna essere furbi sottrarre danneggiare ulteriormente la società per sottrarsi alla punizione la pratica del bullismo viene imposta ai ragazzi attraverso il cattolicesimo non è innata ed è imposta sia in maniera diretta attraverso le pratiche cattoliche che vengono imposte alla società civile sia indirettamente attraverso la sindrome di onnipotenza che viene trasmessa ai ragazzi dallo schema della famiglia cattolica della società civile a queste persone non importava nulla come i cattolici i magistrati non hanno mai perseguito i delitti gravi quei delitti che fatti nei confronti di soggetti deboli costringevano le persone a rinunciare ad essere i soggetti di diritto costituzionale ai magistrati memori dell'assolutismo monarchico è sempre interessato sancire il predominio dello Stato non quello dei cittadini facendo questo hanno fornito l'esempio ai ragazzi che si può violentare chiunque sottraendolo dall'essere un soggetto di diritto costituzionale due istituzioni dello Stato politica e magistratura sono i responsabili del disagio che oggi viene chiamato bullismo è indubbio che la magistratura reprimerà i reati prodotti dal bullismo ma è altrettanto vero che la magistratura non ha represso in passato quei reati che hanno ingenerato l'idea nei ragazzi che si può fare il bullismo basta essere furbi la politica ha venduto i ragazzi e la società civile per una manciata di voti cattolici ha permesso a Voetile e a Ratzinger di far violenza sui ragazzi ha consentito loro la facoltà di costringere in ginocchio a pregare e ne ha favorito l'attività impedendo che vengano insegnate ai ragazzi le regole della società civile il codice penale e il codice civile ora i sociologi vigliacamente piangono sui disastri sociali ma sono loro che hanno permesso la distruzione della società civile permettendo che i ragazzi fossero vessati attraverso l'imposizione di una morale criminale che viene sistematicamente rappresentata dal crocifisso perché continuare ad imporre ai ragazzi l'obbedienza al più forte quando una società di diritto costituzionale impone altre regole? così i genitori di chi ha violentato la bambina si permettono di trattare la bambina con disprezzo il violentatore che riafferma il proprio diritto a violentare sulla vittima che chiede giustizia davvero si pensa che i ragazzi stiano vivendo ancora nel medioevo? i politici e i magistrati sono responsabili delle violenze che fanno i ragazzi perché non hanno agito quando avrebbero dovuto agire non hanno agito perché in fondo costringere i ragazzi in ginocchio per loro era più importante che impartire gli obblighi e i doveri della società civile e ora che avete costretto in ginocchio i ragazzi a pregare perché vi stupite se i ragazzi costringono una bambina a subire violenza? glielo avete insegnato voi con il crocifisso imparino politici e magistrati ad avere rispetto della costituzione anziché sputare sulle norme e allora anche il disagio sociale potrà essere rimosso 19 novembre 2006 questo pezzo sul bullismo è in internet ormai da parecchio tempo ed è una pagina che viene spesso aperta dai navigatori in internet perché è una pagina che appare facilmente nella ricerca ogni volta che un caso di bullismo viene a attrarre l'attenzione dei media o l'attenzione delle persone un caso di bullismo lo abbiamo avuto qualche giorno fa l'altro ieri l'altro giorno lo vigo i carabinieri denunciano tre studenti diciottenni video blasfemo spaccato un crocifisso allora a prescindere dal fatto che il fatto che i magistrati hanno permesso a questi ragazzi di fare quest'ultimo atto quest'ultima bravata secondo me è stato dovuto perché i magistrati non gliene fregato niente che questi ragazzi facessero atti di bullismo rispetto a un portatore di handicap questi ragazzi sono stati presi con tutta una serie di filmati con tutta una serie di cose che facevano ma la cosa è emersa in relazione al crocifisso al pazzo di Nazareth che è stato picchiato di tutti gli altri casi di cose fatte dai ragazzi si taceva delle macchine che pestavano della violenza che facevano a un ragazzo handicapato per Luigi Lastella comandante provinciale dei Carabinieri sono le famiglie dei ragazzi che dovrebbero cominciare a guardarsi intorno e rendersi conto della mancanza di valori in cui crescono i loro figli anche la madre della vittima del branco di Rovigo punta il dito contro le famiglie nessuno dei genitori di cui i ragazzi ci ha chiamati in questi giorni e mio figlio da allora ha vissuto giorni da incubo dopo quello che è accaduto in classe è stato continuamente preso in giro un continuo martellamento psicologico dal quale stiamo cercando di farlo uscire cioè si tratta del ragazzo portatore di handicap preso di mira da questi bulli e massacrato psicologicamente e questo è un comportamento che è proprio della società cristiana tutti questi fatti in giro per l'Italia accadono continuamente però c'è un altro fatto da ricollegare a questi tre ragazzi che dimostra come di fatto l'attività di bullismo si è innestata dai media quando è stata data la notizia del trovamento di questo video e della denuncia dei tre ragazzi c'è stato io so sicuramente il Tg3 perché ne ho ho preso la registrazione del telegiornale regionale del Veneto e l'ho messa in internet per cui sicuramente ma anche altri giornalisti da quello che mi si riferisce attenzione non è un'informazione che io ho sotto mano cioè non ho il giustificativo sembra che anche il Corriere del Veneto abbia fatto questa affermazione il video è partito nel servizio del Tg3 affermando che i tre ragazzi sono stati denunciati per vilipendio alla religione di Stato perché io ho fatto un salto di tre metri sulla sedia giorno dopo ho preso il telefono e ho telefonato ai carabinieri di Rovigo ho telefonato e ho chiesto se era possibile avere informazioni da chi è partecipato a quella conferenza oltretutto una conferenza tenuta con il Vescovo di Rovigo presente che lascia molto dubitare sulla faccenda e ho chiesto se loro avevano dato loro le notizie ai giornali che i ragazzi erano stati denunciati per vilipendio alla religione di Stato ora la Corte Costituzionale ha depennato la religione di Stato cioè non esiste più nessuna religione di Stato cioè tutte le religioni riconosciute o non riconosciute devono essere trattate in maniera uguale per quanto riguarda gli oggetti di culto articolo 404 del codice penale il comandante di Carabinieri con cui io ho parlato ha detto no noi non abbiamo dato ai giornalisti la notizia che i ragazzi erano stati denunciati per vilipendio alla religione di Stato noi abbiamo dato ai giornalisti soltanto la notizia che i ragazzi erano stati denunciati per l'articolo 404 del codice penale e l'articolo si aveva passato il pubblico ministero che intendeva indagare all'interno di quella ipotesi di reato allora controllando sul codice penale in realtà cosa succede? sembrerebbe attenzione la metto qui fra virgolette perché l'indignazione mia arriva dopo sembrerebbe che sul codice penale fino a qualche anno fa c'era ancora la vecchia dicitura depennata dalla corte costituzionale che restava fra parentesi una roba più o meno del genere mentre sul codice penale che ho io che è del 2007 tale dicitura è sparita completamente potrebbe essere che i giornalisti sentendo l'articolo 404 si sono aperti il codice penale hanno detto vi li prendo la religione di Stato potrebbe essere questo ma la cosa grave è che i giornalisti hanno diffuso notizie secondo cui i terroristi cattolici siano una religione di Stato e sto parlando di terroristi cattolici perché? perché la religione cattolica può eseguire il proprio culto le proprie funzioni religiose le proprie pratiche religiose le proprie idee religiose all'interno della religione cattolica soltanto quando trasferisce quelle idee sulla società civile e quelle idee sono in contrapposizione alla società civile cioè quelle della Costituzione è un atto comunque di aversione sociale comunque è un atto di aversione sociale perché la Chiesa cattolica è garantita l'impunità solo all'interno dell'esercizio della religione diverso sarebbe se la religione cattolica fosse una religione di Stato ma non lo è è chiaro per cui tutti i reati di manipolazione mentale i reati di apologia e di strage i reati di esaltazione del super uomo dell'uomo forte i reati di esaltazione della monarchia assoluta cioè tutti quelli che sono atti che la Chiesa cattolica tenta di trasferire nella società civile per esempio il terrorismo contro l'aborto il terrorismo contro il divorzio il terrorismo contro le famiglie diverse che sono atti di terrorismo veri e propri perché se è vero e vengono manifestati attraverso le parole è altrettanto vero che le persone subiscono vessazioni dai cattolici all'interno della società civile per le loro idee e per costringerli a comportarsi come loro vogliono la loro morale e questo è un atto di terrorismo che poi il magistrato si è sufficientemente vigliacco di non perseguirlo con un altro discorso però sono atti vessatori che tendono a privare le persone dei loro diritti costituzionali quando si costringe un mammino in ginocchio a pregare all'interno di una struttura come la scuola pubblica è un atto di edersione dell'ordine costituzionale è chiaro questo ora purtroppo giornalisti RAI prezzolati ignoranti vigliacchi continuano a distribuire informazioni che sono false al solo fine di garantire a Ratzinger il diritto di stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al crocefisso e questa è veramente un'infamia fatta dai giornalisti del RAI 3 Veneto questi sono dei delinquenti e sono delinquenti anche se è stata una cosa superficiale anche se l'hanno fatto in buona fede perché significa spargere nella società civile odio quell'odio ricordo che la RAI ha fatto massacrare centinaia di migliaia di persone nascondendo notizie dando notizie false non accettando notizie e facendo i suoi porci comodi dando spazio a politici prezzolati e facendosi i suoi porci comodi per cui dando quella notizia che la regione cattolica è una regione di Stato comunque sia nata quella notizia la RAI ha fatto un atto di aversione dell'ordine democratico chiaro questo la RAI ha sputato addosso alla corte costituzionale la RAI ha sputato addosso alla costituzione della repubblica la RAI ha creato le condizioni per cui le persone di altre religioni abbiano dei problemi la RAI è un'organizzazione criminale chiuso il discorso questo comunque è ciò che è successo è quello che mi ha fatto saltare sulla sedia che questi ragazzi siano degli idioti al cubo e che vadano effettivamente rimessi in riga e puniti anche il fatto di pigliare la bacchettata e il crocefisso è una stronzata cioè veramente è una stronzata talmente idiota vanno presi a schiaffi dopo che il ministro della pubblica istruzione abbia fatto un atto di violenza a mettere il crocefisso nelle scuole un atto di terrorismo a mettere il crocefisso nelle scuole questo è un atto discorso ancora però qui i ragazzi effettivamente sono vuoti ragazzi vuoti che non hanno un progetto nella vita che non hanno neanche la capacità di affrontare le condizioni della loro vita e che si riducono a riempire la vita effettivamente di squallore e là c'è da dire ma che cazzo dei genitori sono ma dove li avete mandati ma per quanto avete mandati in oratorio e purtroppo il problema questo qua di Rovigo ma anche quello che vi ho detto prima in giro per l'Italia è un problema grave perché si sta effettivamente ipotecando il futuro perché io oggi ho 55 anni mettete che fra 20 anni io muoia e non so quanti di voi in ascolto hanno grosso modo la mia età e questi sono la società del futuro ora io che sono morto e voi che siete morti con me non è un problema che avrete voi ma che razza di società gli lasciamo i nostri figli e magari questi avranno anche delle raccomandazioni avranno il circuito per avere dei passaggi privilegiati diventeranno i futuri politici provate un po' immaginare una società governata da queste persone c'è davvero veramente da mettersi le mani nei capelli le persone che hanno un minimo di amore per la società in cui vivono chiaramente si frega le mani ed è felice gente criminale come scola come Ratzinger e Bagnasco e compagnia ma loro stanno lavorando per distruggere la società civile va bene ma allora scusate in che mondo vive come concepisce il mondo la persona che pratica stregoneria ma l'amore ma l'amore